Musica Nella giornata di Ferragosto, tra una gita fuori porta e un pranzo all'aria aperta, c'è chi non ha rinunciato alla fede e alla tradizione nel giorno dedicato all'assunzione della Beata Vergine Maria. La piazza San Giuseppe infatti ha accolto i tantissimi devoti che hanno assistito alla Santa Messa delle ore 18 e 30. E poi partecipato alla processione lungo il viale Regina Margherita effettuata nuovamente dopo la pausa dovuta alla pandemia. La stata della Madonna Assunta che viene portata in processione è stata riposta sul carro nella piazza antistante alla chiesa. Qualche ora prima per poter essere ammirata già dall'ingresso di Via Villa Rosa dai fedeli che intonavano in suonore canti e recitavano preghiere, molte in dialetto siciliano. Il corteo della processione è stato accompagnato anche dalle note suonate dalla banda musicale e lungo il suo percorso ondeggiavano dai balconi le tovaglie coperte ricamate, bianche, esposte in segno di devozione. Andrò a credere per vivere, per vivere, per vivere, per vivere, Grazie.